Luciano Cobbe, navigato da Fabio Turco su Ford Focus, si è giudicato l'undicesimo rally Ronde Valtiberina cittadierizzo organizzato dalla Valtiberina Motorsport. Il Ronde Valtiberina era valido come penultima prova del campionato Race Day Rally e grazie alla vittoria Cobbe mette una serissima ipoteca alla vittoria finale, visto che i suoi diretti avversari, Niccolò Marchioro, ritirato e Federico della Casa, assente, non portano a casa alcun punto. La gara si è disputata in condizioni meteo toste, tra freddo, pioggia, fango e fondo scivoloso, proprio quelle condizioni che Pucci Grossi tanto amava e dove regalava tantissimo spettacolo al suo popolo, che si è radunato nella mitica prova speciale Alpe di Poti, che l'organizzazione ha intitolato la memoria del grande pilota romagnolo scomparso nella scorsa estate. La gara è stata quasi completamente ad appannaggio di Luciano Cobbe, che firma tre vittorie di tappa, lasciando l'ultima prova al giovane Andrea Dalmazzini, che chiude in seconda piazza, precedendo lo spettacolare Francesco Fanari. 72 gli equipaggi che hanno preso il via alla gara, solamente in 41 hanno visto il traguardo di Arezzo, tra i principali ritiri Marchioro, Obling, Versace, Maestrini. Particolarmente spettacolare la fase delle premiazioni nel centro di Arezzo.